Per noi oggi è il raggiungimento di un traguardo inseguito da tempo, tanti anni di sacrifici, tanti anni di speranza di poter avere una stabilità, una condizione che ci permettesse di avere una tranquillità in più ed è chiaro che oggi veramente è il raggiungimento di questo importante obiettivo. Chiaramente ora tocca a noi continuare a dimostrare la nostra professionalità, la nostra dedizione a questo mestiere ringraziando chi è stato artefice e protagonista di questa bellissima giornata. Finalmente è un sogno che si realizza, dettato da tanti anni di sacrificio, portato avanti un servizio con onore e rispetto e finalmente questo è il ringraziamento per tutti noi. È una bella festa dopo tanti anni di volontariato per tanti operatori senza avere un contratto stabile. adesso festeggiare questo nuovo inizio, ovviamente anche migliorando il servizio del 118. Beh, più tranquillità familiare, più stabilità economica, però non ci dimentichiamo che anche chi era prima nel privato ha fatto tanto per questo servizio. È un grandissimo obiettivo raggiunto finalmente, dopo veramente tanto sudore ce l'abbiamo fatto. Benissimo, si lavorerà anche meglio, anche forse più di prima e con tanta tanta volontà e forza, sempre per il cittadino.